Nessun bando sulle terme può essere pronto per essere pubblicato perché il Comune sta partecipando attivamente alla sua stesura, cosa tuttora in corso. E questa è la replica di oggi dell'assessore Sino Caracappa e timori espressi ieri da Alfredo Ambrosetti e dal tavolo tecnico dell'Associazione Ora Basta. Il bando deve essere necessariamente condiviso col Comune, il Comune dovrà fare i necessari passaggi e per cui, fatto questo, speriamo, nel giro di pochissimi giorni, nell'arco della prossima settimana, saremo nelle condizioni di presentare una proposta che poi speriamo nel più breve tempo possibile possa essere ufficializzata. Il Comune di Sciacca, per dire, si oppone fermamente all'inserimento tra i beni da affidare del Parco delle Terme che deve rimanere dunque nella disponibilità pubblica. Abbiamo ricevuto venerdì formalmente una bozza di bando che come Comune abbiamo l'obbligo di sottoporre in primo luogo al Consiglio Comunale e quindi sono stati fatti alcuni passaggi per la convocazione dei capogruppi a cui è stata sottoposta la bozza del bando. Con grande nostra sorpresa abbiamo appreso alcune cose su cui non siamo assolutamente d'accordo è stato inserito il Parco delle Terme nel bando, quando invece già non c'era nella manifestazione di interesse e soprattutto avevamo detto verbalmente che il Parco delle Terme rimanga a carico del Comune perché è oggetto di due finanziamenti. Per cui è, come dire, d'obbligo dire alla città che partiranno dei lavori di riqualificazione e poi si può anche pensare che nel momento in cui c'è il giudicatario si possa fare una sorta di accordo convenzione per la fruizione del Parco, ma il Parco deve essere pubblico e di fruizione pubblica a disposizione della città. Una questione su cui dunque il Comune di Sciacca non intende subire più passivamente le decisioni del proprietario del complesso termale? Avevamo appunto un po' di giorni fa una visita del Dipartimento Tecnico Regionale che ci aveva prospettato tutta una serie di difficoltà inerenti al San Francesco e mi fa veramente, come dire, impressione pensare che chi parla oggi non si era reso conto delle cose che aveva in mano. Quindi il San Francesco dal punto di vista catastale è inesistente. Così come tutta una serie di immobili risultano laddove oggi siamo in presenza del Parco e ci sono delle operazioni che sicuramente richiederanno del tempo per cui per una sorta di riallineamento catastale e la Regione ha in questo momento deciso di non metterlo nel bando. E alla manifestazione del 6 marzo promossa dal Comitato Civico Patrimonio Termale l'amministrazione Valenti sarà regolarmente presente. Il Comunicciacca deve essere presente perché le terme sono un patrimonio della città. Che sia chiaro, noi siamo favorevoli a tutte le manifestazioni dell'associazione, a tutte le buone intenzioni che le associazioni stanno mettendo in campo per far sì che il patrimonio termale venga considerato di tutta la città. Le dichiarazioni odierne di Sino Caragappa sono anche una risposta alle preoccupazioni che oltre ad Ambrosetti anche il Comitato Civico Patrimonio Termale è tornato a manifestare giusto oggi chiedendo se il Comune abbia già dato la propria adesione ai contenuti del bando regionale. Bisogna acquisire una piena coscienza di quello che è il patrimonio della termale, di quello che è stata la città considerata luogo di destinazione turistico termale nell'arco dei secoli. Adesso l'abbiamo perso, lo dobbiamo assolutamente riconquistare perché su quella va modulato il modello di sviluppo. Grazie. 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 Grazie.